Se volete preparare un antipasto o un aperitivo in poco tempo, questi cornetti al salmone saranno una ricetta perfetta. Sono buonissimi e vi assicuro che andranno a ruba. E vedi che ti mangi! Pieghiamo il rotolo di passasfoglia in quattro parti in modo da facilitarne il taglio. Con una rotella liscia tagliamo il cerchio da prima in quattro parti e poi in otto. Aggiungiamo alla robiola un po' di aneto e un po' di pepe e amalgamiamo bene il tutto. Aggiungiamo sulla base di ogni triangolo un po' di robiola e un po' di salmone e arrotoliamo per formare il cornetto. Procediamo in questo modo e per tutti gli altri sette triangoli otterremo otto cornetti. Spennelliamo i cornetti con un tuorlo sbattuto con un cucchiaio di latte. E spolverizziamoli con i semi di papavero. Cuociamo i cornetti in forno statico a 200 gradi per circa 20 minuti. Preparateli e vedrete che bontà! Preparateli e vedrete che bontà!